e ciao a tutti scuole e pesciolini sono mammy dd dell'italiana sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della terra firma craft ragazzi nello scorso episodio ragazzi mentre preparo la roba di questo episodio vi spiego quello che faremo e un po' di cosette insomma nello scorso episodio vi dico che ci siamo lasciati che avevo bisogno della grafite effettivamente ho trovato dove si trova però dato che ho incontrato alcune difficoltà che sono riuscito a risolvere vorrei mostrarvi in questo episodio come si trovano minerali come la grafite sono tutti quei minerali che devono per forza essere trovati nel sottoterra nel sottosuolo sotto terra insomma la grafite è rarissimissimissimissimo praticamente impossibile trovarla sopra perché cresce tra alcune tipologie di rocce che si trovano solo sotto terra io ho trovato questa venatura non di grafite ma di rocce e quindi ora insieme vi farò vedere come andare a cercare un minerale sotto terra che è nascosto tra il nulla con il rischio di pericoli di caverne che ci cadono in testa eccetera eccetera nel frattempo per prepararmi alla cosa ho creato sei lingotti di bismuth di bronzo di bismuth bronze eccetera la proporzione che ho usato è questa ragazzi ce l'ho scritta qui sono 300 unità di copper 180 di sfalerite che sarebbe lo zinco e 120 di bismuth e ho avuto sei lingotti pieni pieni tutto a posto niente in ordine quindi gg con questi sei lingotti che cosa ci faccio allora ci faccio ben quattro picconi perché scaveremo parecchio ve lo dico e ci ho fatto due pro pic i pro pic sono degli oggetti che ci servono insomma per per indagare nel sottosuolo che cosa c'è o cosa non c'è allora vedete i miei picconi e i miei pro pic l'unica cosa che un po mi manca sono il cibo però va bene nel caso dopo l'episodio vado a mangiare qualche cosa e torniamo altra cosa che ci serve ragazzi sono i support bim per fare un support bim è molto semplice vi faccio vedere la ricetta di questo basta avere una sega e mettere i log non lavorati quindi in questo modo e ci danno 8 support bim ora con tutto questa roba vi faccio vedere cioè ci teletrasportiamo nel punto in cui inizieremo a scavare nel sottosuolo e iniziamo a fare i nani ok ragazzi siamo nel sottosuolo l'ottavo nano ma mi titolo ma mi titolo mi piace come nome comincerà a scavare qui perché non sto usando i mega picconi dei giganti perché ragazzi se uso i mega picconi dei giganti non solo non riesco a creare un tunnel quindi mi sarà molto molto difficile andare alla ricerca dei materiali di cui ho bisogno ma se dovessi trovare la grafite in un pezzettino magari in quello che vado a scavare cadendo quindi se gli cadono delle rocce addosso sparisce quindi dato che con il piccone dei giganti è molto probabile che succeda questa cosa ho perso molta grafite in questo modo direi che è meglio evitare in ogni caso il miglior modo per scavare le caverne è quello che vi sto per illustrare ora ora vi spiego come funziona il metodo dopodichè velocizziamo un attimo il video e andiamo a trovarci questa grafite allora fondamentalmente cosa succede? qui intanto vorrei farvi notare che ho trovato del cinna bar il cinna bar ragazzi sarebbe la redstone e ho trovato un sample, cioè un large sample quindi significa che ce n'è proprio tanto allora un po' prima direi che ce ne andiamo a scavare in questa direzione allora la tecnica che utilizzo è ogni 5 blocchi praticamente è dove what the fuck perchè sei crollato? giustamente lui mi dovevi fare gli epic fail giusto nel video ma mi pare abbastanza ovvio eh si ragazzi è crollato c'ha ragione anche lui perchè non ho fatto ecco vedete ci sto mettendo i support beam attenzione che potreste non riuscire a mettere i support beam se in questo modo se non sono alti 3 per mettere un support beam avete bisogno di un'altezza di 3 e di una larghezza almeno di 1 allora quindi vi dicevo scaviamo 5 blocchi distante quindi 2, 3, 4 e 5 dopodichè io vado a piazzare metto una torcetta e vado a piazzare il mio support beam quindi il support beam per piazzarlo ragazzi come vi ho detto bisogna fare una specie di cornicione della porta alto 3 e largo 3 fondamentalmente quindi un 3 per 3 ci serve un quadrato 3 per 3 scavato dopodichè è molto semplice clicco col destro e clicco col destro me ne piazza vedete 3 e 3 e poi ci clicco qui e in questo modo la mia caverna è sicura ora arrivato a questo punto io vado ad usare il mio prospector pick il prospector pick che cosa fa? cliccando col destro vedete? mi dirà oh che qui in questa direzione ci sta un very large sample of cinnabar se lo facessi in quest'altra direzione non c'è niente interessante qui non c'è niente interessante vediamo giù non c'è niente interessante allora in questo caso non mi interessa andare a prendere il cinnabar perché non mi interessa la redstone quindi continuerò da quest'altro lato ci interessa trovare la grafite ragazzi quindi andremo a cercare qualcosa di grafite oltre a questo vi volevo dire che il prospector pick indaga in un quadrato 25x25x25 quindi se io clicco col destro su un blocco nel quadrato 25x25x25 mi indaga e vede che tipo di minerali ci sono e quindi in base a quello poi mi dice che cosa c'è vediamo in questa direzione e sempre cinnabar, cinnabar e cinnabar qua ragazzi siamo nel bel mezzo del cinnabar e che dobbiamo fare? che dobbiamo fare? io direi di andare sempre dritto e continuare verso l'infinito e oltre e che dobbiamo fare? Grazie a tutti. 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 E' un po' in questo modo che funziona sto robo, eh? Intanto la grafite non l'ho trovata. Qui c'è cinna bar. Il cinna bar è difficilissimo, cioè è rarissimo da trovare nelle rocce di Quarzite. Noi ne stiamo trovando a milioni, ma stiamo scherzando ragazzi, stiamo veramente scherzando. E la grafite che è molto più semplice, no? E' un po' in questo momento. E' un po' in questo modo che stai baggando come la merda. E' un po' in questo modo che stai baggando come la merda. Ecco, ecco E quindi, la vostra arma Oh, e muori E muori, e muori Oh What? Allora, questo non so cosa sia Ball of vibrating moves used to throw fire from a dispenser Vabbè, è una roba Ma ci ha dato due iron ore Sì ragazzi, ma io questo come li lavoro Ho bisogno di un hammer che me lo trasformo in iron powder Oppure un pounder What? Ah, ecco Me lo trasformo in polvere Ho un foundry, ho un crusher Ho un arc furnace Vabbè Diciamo che l'ho trovato Io continuo a cercare la grafite Oh mio dio, guardate questo zombie che strano Lost miner Che figo Ciao, ciao, lost miner Però ti sei perso, sei diventato zombie Ma non mi devi rompere scatola a me Comunque ragazzi, guardate Appena finisco di ammazzare sta cosa Guardate un po', cioè non si nota Non si nota, è difficilissimo da vedere La sfalerite È veramente, veramente difficile come minerale da vedere Ma è tutto questo minerale qui Vedete? Questo è tutto sfalerite No, queste quarsite No, queste sfalerite Sarebbe lo zinco Ovviamente ho trovato enormi vene di zinco Ma non ho trovato la grafite Cioè sembra essere la cosa più rara di questo gioco Ovviamente questa è la legge di Oh cazzo, che cazzo sei tu? Ciao, mini enderman Madonna che spavento La legge di minecraft Quando cerchi qualcosa Non la troverai mai Perché diventa super preziosa E io ho finito pure le torce E di qua direi che non è il caso di andare senza torce Io direi che Ragazzi siamo stati un po' sfortunati Anche se credo che il video sia uscito come si deve Cioè il mio obiettivo è uscito E io continuerò a navigare in queste caverne sperdute Speriamo di riuscire a tornare su Guardate quanto zolfo Guardate quanto zolfo Che cazzo Ah, ok Sperando di riuscire a trovare un po' un po' di grafite Un pezzettino l'ho trovato Però ne volevo trovare un qualcosina di più Visto che qua si trova tutta Certo che quella Io vi do il mio saluto Ci vediamo nel prossimo video Mi raccomando lasciate like, commentate e condividete Se non siete iscritti al canale Non ci pensate su due volte Fatelo subito E vienetelo a seguire sui social Siamo tutti i giorni su UTS E ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti